Salve a tutti e buona giornata all'insegna delle stelle. Iniziamo sempre con il primo segno dello zodiaco, l'ariete. In questi giorni potreste arrabbiarvi. Se siete in lotta con qualcuno, siate accorti, perché i concorrenti saranno impietosi. Per quanto riguarda l'amore, dovreste chiarire qualche cosa. Toro. Oggi modera le parole. Potresti incorrere inequiveci e tensioni inutili. Gemelli. Non si può continuare così. Bisogna cambiare le cose. Siete molto stanchi, quindi suggerisco di aspettare qualche giorno. Cancro. Attenti alle parole e dalle scelte da fare. Nei periodi come questo, in cui regna il caos attorno a voi, potreste fare delle scelte di cui vi potresti sventire. Leone. A parte il vostro innato fascino, anche la vostra mente vi aiuta ad essere più lucidi. Vergine. In questi giorni una forte energia vi arriva da una serie di pianeti veloci da un segno amico. Ciò vi aiuterà a ricaricarvi e prendere delle scelte in modo più chiaro e deciso. Bilancia. Ogni giorno arrivano novità a livello lavorativo, ma ancora non sapete che strada prendere. Al momento non siete soddisfatti e questa luna ve lo fa notare di più. E questa è in questa giornata. Scorpione. Oggi vi suggerisco di evitare discussioni e di concentrarvi invece nel lavoro. In serata le emozioni prendono sopravvento. Sagittario. Avete una sfilza di pianeti positivi. Avete grande voglia di fare. Capricorno. Volete imporre la vostra volontà ed ultimamente non è molto facile. A livello sentimentale vi trovo un po' distratti. Acquario. Un po' di distrazione caratterizza le tue giornate. Poni attenzione anche sulle questioni finanziarie al momento. Pesci. Potreste dovervi dare da fare per rinnovare un contratto o cercando di aggiustare il tiro su qualcosa che riguarda la sfera pratica della tua vita. Ed anche per oggi vi saluto e vi auguro una bella giornata. Vi aspetto tutti domani. Grazie a tutti.